Il colore acrilico molto diluito si può prestare a sovrapposizioni sempre meno acquose. Per conoscere questa proprietà stendete del colore diluito in modo casuale. Una volta asciutto con il colore puro fatevi suggerire dalle macchie ottenute sul cartoncino per formare figure e segni astratti al solo scopo di osservare il comportamento del colore e tramite di esso addentrarsi sempre di più alla scoperta di questo mezzo in modo del tutto libero e creativo. E adesso provateci anche voi e grazie sempre per essere qui con me sul canale.